Con questo tutorial vediamo come risolvere equazioni fratte di secondo grado. Partiamo da questo esempio. La prima cosa che dobbiamo fare è il minimo comune multiplo e si ottiene moltiplicando x più 4 per x meno 2. Ho moltiplicato questa quantità per quello che non aveva denominatore, ossia x meno 1, e quest'altra quantità per quello che non aveva denominatore, ossia x più 4. Ora semplifico i denominatori e vado a porre le condizioni di esistenza ed ottengo x diverso da meno 4 ed x diverso da 2. Svolgo ora questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. Semplifico x cubo con x cubo, poi ho meno 2x con più 2x, e poi sommo i termini simili. Porto ora queste quantità a sinistra e vado a riscrivere l'equazione di secondo grado in forma normale. Osservo che posso moltiplicare tutto per meno 1 e poi dividere per 12. Ottengo in questo modo un'equazione di secondo grado scritta in maniera ridotta e posso risolverla osservando che questa quantità è un quadrato di binomio e scrivere x più 1 al quadrato uguale a 0. Eseguendo la radice quadrata di ambo i membri ottengo x più 1 uguale a 0, ossia x uguale a meno 1. Siccome che il valore ottenuto è diverso dai valori che escludo dal campo di esistenza, allora vuol dire che meno 1 è soluzione di questa equazione. Vediamo quest'altro esempio. La prima cosa che devo fare è il minimo comune multiplo. Osservo che x alla seconda meno 1 lo posso scrivere come differenza di quadrati. Faccio ora il minimo comune multiplo. Scrivo qui x più 1 al quadrato perché devo moltiplicare x più 1 per quello che non ha denominatore. A denominatore ha x meno 1, gli manca x più 1, quindi vado a scrivere x più 1 per x più 1 e in maniera compatta scrivo x più 1 alla seconda. Poi ho meno 2, lo devo moltiplicare per x meno 1, quello che gli manca a denominatore. Il 4 invece lo vado a riscrivere così com'è. Semplifico ora i denominatori e vado a fare la condizione di esistenza ed ottengo x diverso da 1 ed x diverso da meno 1. Opposto questo fattore e questo fattore diversi da 0. Adesso svolgo questo quadrato di binomio e questa moltiplicazione e porto il 4 a sinistra. Semplifico ora 2x con meno 2x e poi sommo 1 più 2 fa 3 meno 4 ed ottengo meno 1. Ho così un'equazione di secondo grado pura che la vado a risolvere. x alla seconda uguale a 1, eseguo la radice quadrata di ambo i membri ed ottengo x uguale più o meno 1. Osservo che i valori che ho ottenuto meno 1 e 1 sono proprio i valori che ho escluso dal campo di esistenza, allora vuol dire che non sono valori ammissibili e allora significa che questa equazione risulta impossibile. Vediamo quest'altro esempio. Allora vado a fare il minimo comune multiplo e lo tengo moltiplicando x più 1 per 2x meno 1. Moltiplico ora la x per quello che non ha a denominatore, considerato che il suo denominatore è x più 1, lo devo moltiplicare per 2x meno 1. Questo 1 ha 2x meno 1 a denominatore, allora deve essere moltiplicato per x più 1. Semplifico ora i denominatori e vado a fare le condizioni di esistenza. Ponendo questo fattore e questo fattore diversi da 0, si ottiene che x deve essere diverso da meno 1 e x deve essere diverso da un mezzo. Svolgo ora questi calcoli. Posso semplificare meno x con x e quello che ottengo è 2x alla seconda più 1 uguale a 0 e ottengo così un'equazione che non è risolubile e allora vuol dire che questa equazione risulta impossibile. Vediamo questo esempio. Allora vado a fare il minimo comune multiplo e si ottiene moltiplicando 3x più 1 per x più 2. Semplifico ora i denominatori e vado a fare la condizione di esistenza. Ho posto questo fattore e questo fattore diversi da 0, allora vuol dire che x deve essere diverso da meno 1 terzo e da meno 2. Eseguo ora queste due moltiplicazioni e poi riscrivo l'equazione in forma normale. Posso semplificare 12x con 12x e quello che ottengo è 6x alla seconda uguale a 4. Allora posso dividere ambo i membri per 6 e scrivere x alla seconda uguale a 4 sesti. Ora posso dividere per 2 e scrivere 2 terzi e poi eseguo la radice di 2 terzi considerato che sto risolvendo un'equazione pura e quindi scrivo x uguale più o meno radice di 2 terzi. Posso andare a razionalizzare andando a scrivere più o meno radice di 2 fratto radice di 3 e quindi moltiplico sopra e sotto per radice di 3 ed ottenere più o meno 2 per 3 fa 6 e quindi scrivo radice di 6 fratto 3. Questi valori sono valori ammissibili perché sono diversi da meno un terzo e da meno 2. Vediamo quest'altro esempio. Devo andare a fare il minimo comune multiplo. Mi rendo conto che qui posso mettere in evidenza un meno 4 e allora questo termine lo posso andare a riscrivere in questa maniera. Avendo messo in evidenza un segno meno e quindi da 4 meno 4x andrei a scrivere 4x meno 4 e poi vado a mettere in evidenza un 4. Eseguo ora il minimo comune multiplo. Semplifico poi il denominatore e vado a porre x meno 1 diverso da 0 e quindi x deve essere diverso da 1. Risolvo ora questa equazione di secondo grado pura e quindi vado a scrivere meno x alla seconda uguale a meno 4 moltiplico ambo i membri per meno 1 e quindi scrivo x alla seconda uguale a 4. Eseguo la radice quadrata ed ottengo x uguale più o meno 2. Siccome che i valori che ho ottenuto sono 2 e meno 2 e sono diversi da 1, sia meno 2 che 2 sono soluzioni di questa equazione. Vediamo quest'altro esempio. Devo fare il minimo comune multiplo. Osservo che x alla seconda meno 9 lo posso scrivere come differenza di quadrati e scrivere x meno 3 per x più 3. A questo punto faccio il minimo comune multiplo. Semplifico ora i denominatori e faccio la condizione di esistenza. Svolgo poi questi calcoli. Sommo ora i termini simili ed ottengo 5x alla seconda più 10x meno 15 uguale a 0. Qui posso dividere tutto per 5 ed ora vado a risolvere questa equazione di secondo grado. Ottengo due soluzioni, 1 e meno 3. Osservo che il valore meno 3 è un valore che è stato escluso dal campo di esistenza. Allora vuol dire che questa soluzione non può essere ammissibile. Allora l'unica soluzione di questa equazione è x uguale a 1. Vediamo quest'altro esempio. Allora vado a fare il minimo comune multiplo ed è x più 1 per x meno 2. Semplifico ora i denominatori e vado a fare la condizione di esistenza ed ottengo che x deve essere diverso da meno 1 e 2. Svolgo ora questi calcoli e poi porto tutto in forma normale. Posso ora moltiplicare tutto per meno 1 e scrivere x alla seconda più 4x. Ottengo in questa maniera un'equazione di secondo grado spuria. Posso mettere in evidenza una x e scrivere x che moltiplica x più 4 uguale a 0. Ora vado a porre questo fattore uguale a 0 e questo fattore uguale a 0 ed ottengo come soluzioni x uguale a 0 ed x uguale a meno 4. Siccome che 0 e meno 4 sono valori diversi da quelli che ho escluso dal campo di esistenza, sono valori entrambi ammissibili come soluzione di questa equazione. Vediamo quest'altro esempio. Vado a fare il minimo comune multiplo e moltiplico x più 2 per x meno 1. Semplifico i denominatori e vado a fare il campo di esistenza. Eseguo ora queste moltiplicazioni. Posso ora semplificare x quadro con x quadro meno 2x con meno 2x e poi meno x con meno x e quello che mi resta è x alla seconda uguale a 2. Ora eseguo la radice quadrata di ambo i membri e quindi vado a scrivere che x è uguale a più o meno radice di 2. Siccome che meno radice di 2 e più radice di 2 sono valori diversi dai valori che ho escluso dal campo di esistenza, sono entrambi valori ammissibili. Vediamo quest'altro esempio. Vado a fare il minimo comune multiplo tra x meno 3 e 2x più 1. Semplifico i denominatori e faccio il campo di esistenza. Eseguo ora questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. Osservo che 10x meno x fa 9x e 12x meno 3x fa 9x. Allora posso semplificare questo, questo, questo e questo. Ora prendo il 5 e lo porto a destra e x quadro lo porto a sinistra. Moltiplico ora ambo i membri per meno 1 e quindi scrivo 3x quadro uguale a 41. Divido poi per 3 e a sinistra vado a semplificare. Ottengo così un'equazione di secondo grado pura. Eseguo allora la radice quadrata e quindi scrivo che x deve essere uguale a più o meno radice di 41 terzi. Ora vado a razionalizzare e quindi scrivo più o meno radice di 41 fratto radice di 3. Moltiplico sopra e sotto per radice di 3 ed infine ottengo x uguale più o meno 41 per 3 fa 123 e quindi scrivo radice di 123 fratto 3. Siccome che i valori che ho ottenuto sono diversi da quelli esclusi dal campo di esistenza sono entrambi valori ammissibili. Vediamo quest'ultimo esempio. Vado a fare il minimo comune multiplo e quindi moltiplico x più 3 per 2x. Semplifico i denominatori e faccio la condizione di esistenza. Ponendo questo fattore e questo fattore diversi da 0 si ottiene che x deve essere diverso da 0 e x diverso da meno 3. Svolgo ora questa moltiplicazione questo quadrato di binomio. Posso semplificare 6x con 6x. Ora prendo x quadro e lo porto a sinistra ed ottengo 3x quadro uguale a 9, divido per 3 e semplifico e quindi ottengo x alla seconda uguale a 3. Eseguo la radice quadrata e quindi ottengo x uguale più o meno radice di 3. Siccome che più radice di 3 e meno radice di 3 sono valori diversi da 0 e meno 3, valori esclusi nel campo di esistenza, questi valori sono entrambi ammissibili e sono soluzione di questa equazione. E con questo termino il tutorial su come poter svolgere equazioni fratte di secondo grado.